ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario selen pet informazioni commerciali titolare nbf lan ssrl concessionario nbf lan ssrl confezioni selen pet 60 perle formulazione olio di pesce 18 per cento epa 12 per cento di h a 67,4 per cento gelatina origine bovina glicerolo sottoprodotti a piccoli cera d'api additivi additivi nutrizionali vitamine provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite 3 a 700 vitamina e tutto raccalfato coferil acetato 481 mg barra chilogrammi composti di oligoelementi 3b 817 selenio metionina prodotta da saccarumice cerevisia mcr 645 lievito al selenio inattivato 18 mila 72 mg barra chilogrammi selenio 36,1 mg barra chilogrammi additivi organolettici altri coloranti e 172 ossido di ferro rosso nero additivi tecnologici 1 c 322 illecitine apporto nutrizionale per perla olio di pesce 560,0 mg di cui epa euroac e icosapenta enoico 100,0 mg di h a euroac docosaisa enoico 67,0 mg vitamina e 400,0 mcg silenio 30,0 mcg pesonetto 49,8 g 60 perle da 830 mg componenti analitici proteina ma grezza 17,5 per cento fibra grezza 0,5 per cento grassi grezzi 77,0 per cento ceneri grezze 0,5 per cento indicazioni a un mangime complementare contenente principi nutrizionali acidi grassi umeda 3 selenio utili per il normale invecchiamento del cane e del gatto posologia somministrare il prodotto per via orale direttamente in bocca o in aggiunta all'alimento completo in ragione di gatti 1 perla al giorno cani 1 perla al giorno fino a 10 kg di peso vivo 2 perle al giorno da 11 kg fino a 25 kg di peso vivo 3 perle al giorno oltre i 25 kg di peso vivo completare la razione giornaliera con l'alimento abituale lasciare sempre acqua fresca a disposizione fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato